Furti nei bagai all'aeroporto di Capodichino di Napoli. 70 denunce nel periodo 2019-2020, in seguito alle quali e alle successive indagini, sono scattati decreti di perquisizione nei confronti di 13 persone, a vario titolo impiegate in società di service operanti in ambito aeroportuale. Durante l'attività sono stati trovati diversi beni oggetto proprio delle denunce. Sono stati gli agenti della squadra mobile della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli-Capodichino ad intervenire. I furti erano stati soprattutto messi a segno all'interno delle stive degli aeromobili di voli low cost e hanno interessato in particolare quei bagagli inizialmente dichiarati come a mano e che per motivi di policy della compagnia aerea nel corso delle operazioni d'imbarco venivano destinati alle stive, rendendo così difficoltoso da parte del passeggero il recupero di oggetti di valore. Inoltre il personale della Polizia di Frontiera di Napoli-Capodichino ha dato anche esecuzione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di un dipendente del Duty Free nelle aree partenze dello Scalo Partenopeo. In seguito a numerose denunce di furto presentate dal responsabile dell'esercizio commerciale è stata avviata un'attività di indagine che ha consentito di individuare ed identificare l'autore in un addetto alle vendite che, eludendo i controlli e approfittando del proprio incarico, sottraeva la merce dal negozio per poi rivenderla anche ad altri dipendenti aeroportuali. Grazie per la visione!